Il centrocampista ivoriano Kwame lascia la Nisse e passa al Manduria. In una nota il club biancoscudato si esprime sulla vicenda, sottolineando che il giocatore, il cui arrivo a Caltanissette era stato annunciato l'8 luglio scorso, era stato regolarmente tesserato e aveva pure ricevuto un anticipo sul rimborso spese pattuito. Poi si sarebbe pentito della scelta fatta. Il passaggio di Kwame al Manduria è stato già annunciato dalla società pugliese che milita nel campionato di eccellenza. Intanto prosegue la preparazione precampionato della squadra a Petralia Soprana. Complessivamente 26 i giocatori che si stanno allenando sotto la guida del tecnico Alessandro Settineri. I portieri Chimenti e D'Amico, i difensori Lusero, Hernandez, Mederos, Sanè, Pulci, Tabasso, Terrana, Martorana e Castelli, i centrocampisti Morales, Ferraro, Sacco, Niccoli, Scribani, Abate, Kamal, Sparacio e Gallo. Gli attaccanti Ortiz, Azzara, Gomez, Sinatra, Bucceri, San Martino e Balbo.